Io sono già registrato. Parliamo di un Verduzzo, di un Oltrepo Pavese, di un Montepulciano Doc, di uno Chardonnay e di una birra. Eno Energy è una azienda, una start-up innovativa iscritta in un apposito registro della Camera di Commercio. Abbiamo diversi progetti, il primo sicuramente è questo distributore di vini e birre. In seconda battuta abbiamo un progetto sviluppato all'80% su paleoliche. Noi soci siamo praticamente astemi, abbiamo la passione per il lavoro, abbiamo la passione per inventare nuovi prodotti, però in questo progetto non siamo bevitori di vino. La maggior parte dei prodotti inseriti sono prodotti locali, quindi a chilometro zero, quindi sono prodotti anche senza packaging, quindi eliminando il costo delle bottiglie, etichette e quant'altro. Rispetto al normale vino imbottigliato, mediamente siamo al di sotto del 30-40% rispetto al prezzo di mercato. Noi chiudiamo le 10 di sera, non vogliamo incentivare il consumo di alcol. Potremmo sicuramente stare aperti fino alle 2 di notte, ma la nostra scelta è di dare un buon prodotto alla famiglia e non a gente che vuole ubriacarsi o che vuole fare un abuso di alcol. Noi abbiamo avuto un accordo con la provincia di Lecco per avere delle persone che hanno perso lavoro e dignità con questo. Il governo garantisce alla start-up innovativa, e noi lo siamo, un finanziamento rapido e con garanzie sue. Mentre in questo momento le banche stanno tergiversando, stanno prendendo tempo e sono 4 mesi che noi aspettiamo una loro risposta. I bar della zona non ne risentono del nostro servizio. Chi ne risente è la grossa distribuzione, è la grande distribuzione. Non penso che mi porta via clienti, perché io ho vini buoni di alti livelli. Sono un po' preso, speriamo di no, speriamo di continuare a lavorare bene come sempre. Ci auguriamo sempre quello. Per lo meno fino ad ora mi sembra di no, vedendo la quantità di merce che arriva, per adesso no. Quando passo vado a vedere. Se apri un negozio buono, perché non devo farvi la scorta anche di vino?